Cari amici di Radio Puggino Ner, bentornati. In questo episodio ci occuperemo di un personaggio che si è fatto conoscere negli ultimi tempi per le sue frasi, per il suo atteggiamento piuttosto particolare. Stiamo parlando del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, un personaggio che ha avuto un'ampia rilevanza mediatica anche grazie alle imitazioni di Crozza che ha reso famosi personaggi come De Luca, Razzi e Baldecchi che altrimenti non avrebbero avuto la stessa attenzione mediatica. Probabilmente o forse sì perché talmente forti le loro esternazioni o assurde in alcuni casi o ridicole. Non mi riferisco a nessuno di loro in particolare, sto dicendo in generale questi personaggi politici imitati da Crozza che hanno fatto ancora di più parlare di se stessi in questo caso. Ma oggi parleremo in particolare non di Crozza ma della recente decisione della Cassazione riguardo al sequestro di 20 milioni di euro presso l'Università Nicolò Cusano in cui è coinvolto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. La Suprema Corte ha posto definitivamente fine alla vicenda del sequestro disposto dalla Procura di Roma nei confronti dell'Ateneo Unicusano. Questa inchiesta coordinata dalla Guardia di Finanza ha portato all'indagine del sindaco Bandecchi per dichiarazioni infedele. Secondo gli inquirenti l'Università avrebbe sfruttato vantaggi fiscali destinati a istituzioni educative per eludere le tasse su attività prettamente commerciali. La decisione della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Ateneo confermando le accuse che sostengono come Unicusano abbia canalizzato risorse finanziarie verso società commerciali collegate a Bandecchi, estranee all'attività accademica. In un arco temporale dal 2016 al 2020 l'Università avrebbe investito fondi derivanti dalla sua attività istituzionale in varie società commerciali operanti nei settori della ricerca scientifica, della mediazione immobiliare, del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici e nel trasporto aereo non di linea. Questa sentenza della Cassazione conferma dunque le accuse mosse nei confronti dell'Ateneo, mettendo in luce come le agevolazioni fiscali per le istituzioni educative siano state utilizzate per scopi commerciali estranei al loro mandato principale. Stefano Bandecchi inoltre è noto ultimamente anche per la sua candidatura alle elezioni europee, durante le quali ha scherzosamente annunciato di candidare il suo barboncino Milo. Ed ora c'è poco da scherzare perché con questa sentenza della Cassazione direi che magari qualche voto lo perderà per le prossime europee. Chissà, vorrei sapere cosa ne pensate voi, naturalmente nei commenti, soprattutto del nostro podcast, del nostro episodio sul mio canale YouTube Marco Puggini, dove potete anche ascoltare la mia musica, in questo caso vi consiglio, è molto affine, di ascoltare Il Politico, Il Politico, non voglio fare Il Politico che era il titolo di quando la portavo in giro nei live, ma Il Politico è il titolo ufficiale con cui è uscita poco tempo fa, pochi mesi ormai fa, due mesi fa praticamente, da pochissimo, quindi andatela ad ascoltare e fatemi sapere cosa ne pensate. Ma andiamo avanti, parliamo di bandecchia ancora perché mi è venuto in mente un episodio, a proposito, abbiamo parlato prima di Crozza, no? Quanto certi personaggi stanno poi sulla bocca dei comici, come ci cascano proprio in modo naturale, no? E allora era molto curioso, è molto curioso ricordare quell'episodio di Viva Rai 2 condotto da Fiorello insieme a Biggio, Casciari e poi c'era il resto della sua banda, dove durante la rassegna stampa è stata affrontata una polemica relativa alle dichiarazioni del sindaco Bandecchi, quando Fiorello ebbe scherzosamente a commentare in confronto il generale Vannacci e Vladimir Luxuria in confronto a Bandecchi. Continuando sulla stessa linea ironica, Fiorello aggiunse Se la Rai stava cercando qualcuno per la famosa educazione sentimentale, io l'ho finalmente trovato. Pensate che Paola Cortellesi farà il prossimo film su di lui. Quindi queste battute hanno preso di mira il sindaco Bandecchi, hanno reso l'atmosfera dello show ancora più divertente. Insomma, come commentare certi personaggi se non alla fine scherzarci su, perché sono incommentabili. Non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere. Ne abbiamo parlato poco di Bandecchi, proprio perché c'è poco da commentare secondo me. Ma secondo quanto ricostruito dagli inquirenti per quanto riguarda questa vicenda, l'università privata avrebbe operato come una sorta di holding capogruppo per diverse società legate a Bandecchi, come la Bandecchi Russia, impegnata nella costruzione e coltivazione di serri. Inoltre l'Ateneo avrebbe gestito partecipazioni in varie aziende operanti nel settore del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, della mediazione immobiliare, dell'accertamento e riscossione dei tributi locali, del trasporto aereo non di linea, dei servizi di bellezza, dell'imballaggio e del confezionamento di generi alimentari, cioè delle attività agricole, del commercio all'ingrosso di alimenti preconfezionati prodotti in Cina e nel settore sportivo, incluso il calcio con la ternana calcio, cioè proprio strike. Secondo le conclusioni dei giudici, non vi sarebbe una giustificazione valida per i milioni di euro di imposte non pagate, in quanto non risulta che i profitti generati dalle attività commerciali collegate all'Ateneo siano stati reinvestiti nell'attività formativa dell'università. E Stefano Bandecchi, protagonista dunque di questa vicenda, è noto anche per le sue ambizioni politiche, come evidenziato dalle sue dichiarazioni. Diventerò premier, se serve un duce voglio esserlo io. Queste le dichiarazioni che mi fa rabbia anche solo leggervi oggi che è il 25 aprile 2024. Attualmente si attende la conclusione delle indagini per determinare se Bandecchi e gli altri indagati dovranno affrontare un processo o se le accuse verranno archiviate. Gli avvocati che difendono il sindaco di Terni hanno sottolineato che neanche la Cassazione ha dimostrato che l'attività commerciale nell'ambito dell'università Nicolò Cusano fosse in concreto prevalente rispetto a quella istituzionale, suggerendo che un eventuale giudizio di merito dovrebbe essere favorevole all'Ateneo. Questa vicenda solleva interrogativi importanti sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'integrità delle istituzioni educative coinvolte in attività commerciali collaterali. Soprattutto bisognerebbe esplorare un attimo questo conflitto di interessi che c'è fra il primo cittadino di Terni e le sue aziende, in questo caso collegate nel modo in cui vi ho raccontato all'università. Questa vicenda dunque continuerà a far parlare di sé, così come sicuramente farà parlare di sé ancora Stefano Bandecchi e noi saremo qui per commentare insieme, per capire, per esplorare tutte le novità e gli aggiornamenti che vi daremo in tempo reale. Allora grazie per averci seguito anche in questo episodio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Pugginio NER.